Musica Let's go ragazzi vi faccio una piccola intro a questo video per spiegarvi un pochino cos'è Ebbene ieri sera erano le 3 di notte passate e io Alberto Lama, in questo caso Matteo Relix Stavamo vedendo le finali della stagione 1 della Cold War League americana nel Nord America In questo caso ci stavano Optic contro Ryze, i Ryze sono considerati uno dei migliori team in questo caso della Cold War League E beh gli Optic stavano vincendo 3 a 0 in mappe, bastava vincere un'altra mappa per comunque assicurarsi il titolo di campione I Ryze riescono a vincere 3 mappe, cioè è una cosa incredibile, riescono ad arrivare sul 3 a 3 in mappe Si va a decidere tutta l'ultima mappa, cerca e distruggi Infection In questo caso ho voluto registrare l'ultimo round perché sono arrivati sul 5 pari Ebbene gli ho voluto registrare la reaction, in questo caso devi dire la reaction solo di Alberto Perché io ti favo spudoratamente Ryze e volevo vincessero Comunque spero vi piaccia questo video, beh divertitevi, vi lascio con la reaction Oddio Aldo, che ne pensi? Oddio sta a plantà, oddio guarda dove la sta plantando, oddio guarda dove la sta plantando Eh la conosco anche quello sport Oddio guarda dove sta, si ma dico c'è Oddio L'hanno visti tutti, l'hanno visti tutti, Formal è l'unico che non l'hanno visto Oddio lui mi sta per giocare, lui mi sta per giocare tantissimo Ah ciò caro, hanno vinto Hanno vinto gli Optic Alberto non parlo anche io Hanno vinto gli Optic Hanno vinto gli Optic per me Roro di water Oddio 2v2 Hanno vinto Oh Dai Chiesai Sì cazzo Sì cazzo Sì cazzo Sì cazzo Sì cazzo Sì cazzo No Sto arrivando l'audio a Ron, un attimo No Sì cazzo Sì cazzo Ma tu cazzo è grosso questo, ma chi è oh? Mi Che cazzo Che cazzo Sì cazzo Sono i capi degli rise questi qua Porco due c'è una paura di perdere Actually in cule Ho capito C'hanno mandingo e co porco due Cazzo alzala Alzala capitano Alzala E non è per la Roma fatto di cazzo Ma oggi non ho mica goduto così tanto per la Roma Adesso metto lo screen sulla pagina Facebook Ah no ma da dove è Justine raga? No ma io voglio Justine Non c'è sta più Justine C'è? C'è hanno vinto 6 a 5 In game 7 Porco due che spettacolo E quello ancora Avrà sempre il rimorso di quell'Eat Wave C'ho il torco L'Uni ce l'avrà in testa l'Eat Wave fissa L'Ala doveva sparà L'Ala doveva fa sti cazzi La sparo Boom Ho la chance baby Ho la chance baby Ma non ho capito il senso di tornare giù da quella casa di L'Uni C'è L'Uni poteva evitare di scendere dalla casa No L'Uni poteva salire No L'Uni poteva salire No Eat some cheesecake Watch a movie All right You know what we're gonna do right now We're gonna invite the audience to come up on stage Celebrate with these guys Everybody give it up Oh David Vondera È partito David Vondera È partito David Vondera L'haete visto? Sì Ha un boccato così Entrate venite gente Mordello Bella Merda Ho i brividi raga Ancora L'Ama Ma a te Salutate Salutate Ok dobbiamo salutare Salutate Ciao a tutti Oh raga